Ho condiviso percorsi comuni e quello che sta facendo il signor Vittorio è quello che facevo anch'io prima di essere sindaco e sto cercando di farlo adesso come istituzione, ovvero portare nelle scuole, ma anche proprio a partire da elementari, una nuova cultura, la cultura del rispetto, rispetto per se stesse, rispetto per gli altri, quindi anche rispetto poi per le donne, per il genere. Ognuno di noi può apportare un contributo, grande, piccolo che sia, ma dobbiamo considerare che lo facciamo, lo facciamo con un grosso senso civico e ci impegniamo tutti, magari per il nostro vissuto, come ci siamo prima detti privatamente, però sicuramente il vissuto, le situazioni dolorose, se poi sono ribaltate in positivo, quindi per aiutare le persone, la società, basta anche sapere di aver aiutato una singola persona che si è incontrate e abbiamo fatto qualcosa di importante, abbiamo dato senso alla nostra vita. Quindi ringrazio veramente il signor Vittorio per quello che sta facendo.